Come lavare lo zaino nella lavatrice di casa. Lo zaino è uno strumento molto usato. Lo zaino ci accompagna dai tempi della scuola e per qualcuno rimane un fedele compagno di viaggio. Come tutte le cose anche lo zaino si sporca, quindi è buona cosa prendersene cura come tutto il resto. Che sia lo zaino della palestra da viaggio non ha importanza, si può lavare tranquillamente ma è importante seguire alcune semplici regole per mantenere i tessuti. Basteranno 4 semplici passaggi per far tornare come nuovo il tuo zaino. Leggere le etichette di lavaggio. Svuotare lo zaino e rimuovere le parti asportabili. Eliminare le macchie prima del lavaggio. Lavare lo zaino in lavatrice. Leggere le etichette di lavaggio. Abbiamo sempre cercato di trasmettere l'importanza della lettura dei simboli di lavaggio. Questo passaggio è fondamentale per la buona riuscita del lavaggio. Le etichette sono standard per tutti i capi. Per chi si fosse perso il nostro ebook gratuito può tranquillamente recuperarlo sul nostro sito lavaselfmilano.it nella sezione del blog del lavandaio. Bene, ora possiamo procedere. Se sullo zaino sono presenti le etichette di lavaggio, procedere come indicato nelle stesse, altrimenti ci sono alcuni passaggi che adesso vediamo. Come prima cosa, se lo zaino presenta parti in cartone, paglia, cuoio e pelle, è sconsigliato procedere con il lavaggio in lavatrice. Se lo zaino presenta delle decorazioni come perline, paillettes o semplicemente cinghie o ganci metallici, inserire lo zaino in un sacchetto di stoffa o in una federa di un cuscino per evitare che si danneggino durante il lavaggio.